Nel 2015, qui anche a Opera Bosco, insieme a un collettivo, un gruppo di artisti, abbiamo organizzato Calcatronica che è un progetto che nasce nel 2013 con John Arnold, Alex Marenga, Marco Fabrizzi e Sandro Podda, compreso me che sono John Ascrementoni. Nel 2015 fu l'anno che ebbe un esito più importante in cui vennero sia più artisti, sia di artisti che di pubblico. Opera Bosco era una delle sedi dei posti in cui si svolse Calcatronica e fu un festival che, proprio grazie a questa spinta organizzativa e curata da artisti, ebbe un grande risultato da un punto di vista creativo, di ricerca, di inventiva, sia come luogo, come contesto, che come contenuti. Tutto erano tutti live set, non c'è stato nessun DJ set, quindi era tutto musica ambient esperimentale, elettronica ambient esperimentale. Questo qua, questo teatro qui, fu uno dei siti, dei posti, dei palchi in cui si suonò. Insomma, ci rimane un bel ricordo di quelle giornate, di quei momenti e la consapevolezza che Calcata rimane un luogo di aggregazione, di creatività nell'arte a 360 gradi.